Non tutti hanno una tv moderna con all'interno una Smart TV. Chi desidera comunque passare a una tv connessa può farlo utilizzando uno set of box esterno. Ce ne sono diversi, ci sono anche diversi set of box Android, in questo caso abbiamo deciso di provare l'SP820D LG. Un set of box che trasforma ogni tv, non necessariamente LG, in una Smart TV con piattaforma però LG, quindi con il telecomando Magic Remote. Vedete la fraccina sullo schermo, sembra un mouse, in realtà stiamo utilizzando una sorta di puntatore che viene dato in dotazione, che è simile al telecomando della Wii, quindi una sorta di Wiimote. Uso il giroscopio e si usa veramente bene. Cinque sezioni, questa è la sezione dedicata alle applicazioni premium, proviamo a caricare per esempio YouTube adesso. Sono una serie di applicazioni decisamente interessanti e ben fatte. YouTube per esempio è stata ridisegnata per avere un'interfaccia che ben sia adatta alla tv. Il telecomando di LG è la piacevole sorpresa anche perché è molto più facile mettere per esempio un testo di ricerca con questo rispetto a quanto succede con un telecomando tipo tradizionale. Ci sono per esempio anche le mappe di Google, per quanto possono essere utili su una tv però magari davanti al divano ci interessa sapere dove mettere un altro posto e possiamo cercarlo. Ci sono due servizi di video on demand come CuboVision e come AceTrux. Ovviamente bisogna fare una sottoscrizione e si paga tutto quello che si scarica e si vede. Le applicazioni premium di prima, quindi Facebook, il Corriere, AceTrux, le mappe, Google e il browser stesso, sono scelti da LG e sono disponibili per tutti i stop box. Poi c'è un'altra sezione invece di applicazioni che viene scelta dall'utente. Vediamo le altre schede, col puntatore mouse possiamo sempre passare da una scheda all'altra. Ci spostiamo nella parte dedicata ai video. LG ha aperto una sorta di sezione chiamata 3D Word che racchiude una serie di video in 3D fatti per godersi il proprio televisore. Anche qua, questa sezione diciamo c'è perché fa parte della Smart TV LG, tuttavia se una persona ha già una TV 3D è abbastanza scontato che abbia anche una Smart TV integrata. Non esiste una TV 3D senza sistema Smart TV. Comunque in ogni caso magari una TV di un altro produttore, magari una TV Sony, una TV Panasonic, vuole attaccare a questo upgrade RSP820 e potrà fruire di questi filmati prodotti da LG e divisi in diverse categorie. Abbiamo visto i filmati top, ci sono alcuni filmati documentari sui luoghi religiosi del mondo, ci sono una serie di filmati di macchine, quindi cose anche interessanti che però non sono veri contenuti come film o cortometraggi che possiamo andare a rivedere più e più volte. Questa invece è la parte legata alle LG Apps, è la parte più debole dell'SP820 perché divide le applicazioni realizzate dagli sviluppatori e approvati ad LG e non sono tante. Ci sono un po' di applicazioni a pagamento, ovviamente quelle dei bambini, che sono quelle che attirano di più, e ci sono circa 17 pagine di applicazioni totali tra applicazioni di intrattenimento, piccoli giochi e applicazioni di notizie. Molte di queste qua, soprattutto quelle di notizie, sono dei semplici reader di feed RSS molto simili tra di loro. Parte molto importante e molto ben fatta, infine, è Smart Share. Smart Share racchiude il media player da USB e il media player di LNA, possiamo dividere per tipo di contenuti, ci vengono mostrati quelli guardati di recente, possiamo vedere quelli aggiunti alle librerie che stiamo monitorando di recente e tutti i dispositivi collegati alla rete, quindi automaticamente l'SP820 riconosce tutti i device di LNA con un server collegati a rete e ci mostra i contenuti condivisi. Possiamo agganciarlo con una chiavetta, questo Smart Wall Grader legge tranquillamente tutto, quindi i file dall'MKV al DVX, ogni tipo di formato, e anche con sotto tutto l'edodo in multicanale e anche in altre definizioni ovviamente. Ultima cosa, le schede che abbiamo visto in un page, le prime quattro non possiamo toccarle perché sono DLG, però se scarichiamo una serie di altre applicazioni dallo store, possiamo andarle a organizzare in una serie di schede, personalizzando noi sempre con il nostro puntatore mouse, le schede che vogliamo e anche volendo cambiare di posizione, quindi mettere la schede che abbiamo appena creato in fronte, per raggiungerlo subito appena accendiamo il set of box. Uno sguardo fino al browser, ovviamente carichiamo d'idea per vedere come si vede il nostro sito, anche qui piaceva la sorpresa il Magic Remote di LG perché ci permette davvero di digitare dei testi con una facilità che un telecomana tradizionale non ci consentirebbe. Il browser è abbastanza veloce, compatibile Flash 10, anche se ormai Flash sta sparendo da quasi tutti i siti se non per la gestione della pubblicità, il sito si vede renderizzato tranquillamente e la comoda rotella sul mouse si permette di scrollare la pagina andando dall'altra verso il basso in modo molto rapido e veloce, cosa che un telecomana tradizionale proprio non ci permette di fare.